Senza fare storia ormai ben conosciuta su ciò che sta accadendo relativamente al Gran Sasso, sono due argomenti ben distinti. La nomina del Presidente e del Direttore, argomento sul quale ormai ci siamo spesi in maniera molto chiara e definitiva anche nei confronti alla Regione e del Ministero. Aspettiamo dal Ministero che si adempia alla necessità di andare alla nomina del Presidente e del Direttore. Noi abbiamo espresso anche un gradimento in maniera molto chiara e formale nei confronti del Vice Sindaco della città del Lago, cosa che il Presidente della Regione non ha molto gradito ma non ce ne frega assolutamente nulla perché questo territorio ha tutti i diritti di poter avanzare della richiesta in tal senso. Tutto questo si lega ad un problema molto serio che sono relativo alle contestazioni che la Ragioneria Generale dello Stato relativamente a una ispezione del 2013 ha rinnovato in maniera conclusiva all'attuale direttivo. che non c'entra nulla perché è tutto relativo a chi ha governato in precedenza e magari il centro-sinistra si ponga qualche dubbio sulle cose. Sono 32 contestazioni. La Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato anche alla sezione giurisdizionale, alla Corte dei Conti regionale, l'argomento, ma questo sarà oggetto di una successiva conferenza stampa. Allora noi abbiamo da parte di qualcuno degli ostacoli, ecco una premessa, guardate chi scrive perché non ero al voto la sera che sarebbe andato sotto la maggioranza, allora guardate io credo che ci voglia neanche un bambino si sarebbe posto il problema perché è evidente la stupidità politica di tale affermazione. Uno, mai e poi mai io avrei votato qualcosa che blocca lo sviluppo del Gran Sasso, proposto da Rifondazione Comunista, perché quello era l'effetto prodotto, quindi il Comune sarebbe andato a bloccare e poi dico anche perché questa cosa sarebbe stata così stupida, in particolare parte mia, di Rifondazione Comunista. Secondo, ammesso e non concesso che fosse andata sotto la maggioranza, il prodotto sarebbe stato tale e quale a quello che si è verificato, cioè per Illi ha zerato e la maggioranza resta in tonza così com'è. Per Illi muto, muto, sta zitto, il direttivo di Rifondazione ha detto abbiamo un confronto col Sindaco, ma la maggioranza resta così com'è. Quindi sarebbe stato veramente il clamoroso flop, naturalmente io questo l'ho detto a chi di dovere e il Sindaco ha potuto cogliere l'occasione per dire che qualcuno al centro-destra era connivente con Rifondazione per bloccare lo sviluppo del Gran Sasso. Politicamente qualcuno deve svegliarsi. Detto questo, perché sarebbe stata anche una stupidità? Vedete questa? Perché poi la gente non si ricorda mai il passato. Il passato è sempre alla base di ciò che è oggi e di ciò che sarà il futuro. Seduta del 18.05.2004, Consiglio regionale d'Abruzzo presiede Tagliente e la maggioranza è la maggioranza di centro-destra. Vengono adottate due deliberazioni su proposta dell'Aggiunta, Giorgio De Matteis, l'approvazione del piano del Gran Sasso, virgola, e l'adozione del piano del Parco Nazionale di Gran Sasso e Monti della Laga. Relativamente a ciò, guarda caso, viene inserito anche la delibera, sempre approvata dal Consiglio regionale, del progetto speciale territoriale Scindarella-Montecristo, approvazione definitiva, eccetera, eccetera. Queste sono due deliberazioni, se volete vi fate le copie e vi andate a leggere ciò che allora venne deciso di fare sulla base delle lungaggini che in precedenza, Assessore Signora Pezzopane, vennero fatte con la slora direttore regionale Perrotti relativamente alla ritagliare i SIC in funzione di scelte che erano operativamente folli, lo dico oggi per allora, e quindi naturalmente noi invece adottammo le due misure fondamentali per lo sviluppo del Gran Sasso. Chi era assente in quelle due occasioni e non votò questo provvedimento? La signora Pezzopane, che ovviamente sarebbe andata in aperto contrasto con quello che aveva combinato in precedenza, e cioè lo sviluppo del Gran Sasso era in aperta contraddizione con i casini che avevano combinato lei Perrotti. Ovviamente non poteva votare contro se stessa, no? Eh? Va bene? Qui ci cominciamo un attimo a chiarire quello che è oggi Gran Sasso. Siccome siamo di fronte a delle scelte che debbono essere fatte, che riguardano sia la governance, importante sì, sia la gestione, con i guai combinati nel passato, importante sì, ma soprattutto lo sviluppo a fronte delle disponibilità finanziarie più o meno decantate dal Sindaco Carente, e fintanto che si opera in funzione dello sviluppo, io non posso che essere d'accordo, fatto salvo alla verifica di quello che si vuole fare, come lo si vuole fare, e all'interno dei limiti che sono previsti da quelle che sono le normative. E qui veniamo al problema. Io ho presentato, o meglio, anticipo la presentazione in ordine del giorno, che relativamente appunto al contrasto tecnico esistente tra atti formali del Consiglio regionale d'Abruzzo, approvazione del piano del Gran Sasso, e virgola approvazione del progetto Scinderella, la contestazione relativamente alla perimetrazione dei signori. Tutto questo perché? Che ancora oggi non c'è l'adozione definitiva, e pertanto, in relazione a questo, abbiamo chiesto, e chiediamo con questo ordine del giorno, ma ho già avuto modo di sentire l'assessore Lolli, che è ancora in giunta, mi risulta, dopo i giorni passati, abbiamo anche l'assessore al pane in prestito, nuovo, la novità che avanza, e con questo ordine del giorno, ovviamente, sulla base di quello che vi ho appena anticipato, impegniamo il Sindaco e l'Aggiunta a farsi parte attiva nei confronti della regione Abruzzo, ho già anticipato che ho parlato con l'assessore Lolli, che ha anche la delega, non ha i panchi, perché ce l'ha allo smilzo di Pescara, ma ha la delega all'Abruzzo Appenninico. Poi, dal Presidente della Regione, dovremo un giorno capire queste deleghe, come sono fatte, perché sono la sovrapposizione di, cioè gli assessori hanno deleghe che si sovrappongono l'uno con l'altro, quindi il lavoro, le politiche del lavoro tra Gerosolimo e la Slocco, l'Appennino Italico, perché ci sta pure un Appennino Austriaco con i marchi, non si capisce. Vabbè, morale della favola, l'ho chiesto al Vice Presidente dell'Aggiunta di muoversi, e lo sta già facendo, in relazione a una re... o meglio, la Regione deve attivare le procedure previste per legge per una modifica della perimetrazione dei SIC. Se poi vogliamo aggiungere un piccolo dettaglio, basta con questo piccolo riassunto di come sono stati individuati i SIC in altre aree, basta vedere come, per esempio, in altre zone d'Abruzzo, siano stati ritagliati i SIC escludendo, guarda caso, le aree dove incidono gli impianti. Va bene? Cioè, uno normale lo fa in funzione di questo, anche perché ciò permette adeguamenti, eccetera, 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 in maniera molto più snella. Va bene? C'è anche questo. Vabbè, comunque, queste le sapete, è inutile che stiamo a fare. Basta vedere, per esempio, Campo di Giove, le piane. Guarda caso, dove non sta il SIC e dove stanno gli impianti. A Campo di Giove, stiamo dicendo. Sopra Aio Gran Sassi, invece, li abbiamo piazzati, ovviamente, dentro, perché noi siamo più pochi. La riperimetrazione di SIC comporta, c'è una scelta che il Capo che ha fatto alla Regione o deve coinvolgere anche il nostro ministero? No, poi va trasmessa, è chiaro. Certo, attivi le procedure, ma prima che poi diventi definitiva, perché se poi diventa definitiva, il problema è chiuso. Chiuso. La scelta di essere nel SIC, all'epoca, comportò anche le lavorazioni di finanziamenti? Chiedete la pezza pane? Non credo. No. Perché scegliere di stare nei SIC senza che poi la procedura sia completata, significa pagare, è come se ci avessero pagato. Non è che io sono SIC e quindi ricevo aiuti europei? No, sono aree protette, ma non è che questo automaticamente... Se sono in aree protette mi pagano, no. No, per capire la genesi dell'errore. Teoricamente, la genesi dell'errore bisogna chiederlo alla scienziata che stava all'urbanistica nella legislatura 95-2000, insieme a Perrotti. E poi noi siamo arrivati e ci siamo detti, scusate, ma senza asso dare mani fermo, perché attenzione, il piano d'area prende atto anche di altri aspetti, come il progetto speciale territoriale Prati di Tivo, il piano stralcio Montepiselli-Montagne, Lecione e Prato Selva, i baci di Tivo, insomma, era un discorso ampio, ma che comunque era molto chiaro. E nella delibera, se poi qualcuno di voi, io l'ho sottolineato perché credo sia giusto, vuole farsela la delibera come copia, sia di questa del piano d'area, sia di quella del progetto speciale della Scindarella. Se vi ricordate, la Scindarella venne rinnovata sulla base di una decisione assunta dell'allora fesso della compagnia Assessore De Martesse, con l'allora sottosegretario Bonanima Nino Sospiri. Giusto per ricordare agli stortiti che oggi parlano, ma nella deliberazione di Consiglio regionale c'era scritto di considerare nell'adozione del piano, fatti salvi, ovviamente, i progetti, gli strumenti urbanistici generali di pianificazione su cui si è raggiunta l'intesa. E cioè, questo, ovviamente, chiaro no? Quindi, ciò che aveva fatto la pezzopane era evidentemente in aperto contrasto con quello che invece il Consiglio regionale aveva trovato. E' chiaro che a questo punto noi chiediamo che la giunta regionale si adotti le misure necessarie per fare in modo da evitare che succeda anche in una zona del terramano ai prati di Tiro, ma in particolare, visto che stiamo parlando del Gran Sasso, si è di un inutile contenzioso e un inutile problema legato a questa situazione.